ciao ragazzi vi faccio vedere un po di bigiotteria iniziamo con quella che ho preso qual era il negozio ha il chiavi questi sono del chiavi 599 ho preso questo bellissimo anello qui lì le misure sono segnate qua vedete questo è la L c'è tutta sta roba qui da tagliare questo l'ho comprato al cinese guarda quanto è bello questo 599 questo 690 ma tanto siamo lì diciamo c'è c'è un euro di differenza poi poi sempre dal chiavi ho preso questi qua 799 io i bijoux li metto in queste in queste bustine loro li usano come sacchetti per alimenti invece li uso per i bijoux e per altre cose certo tolgo prima la carta questa qua che c'è tanto vi li faccio vedere così così vedete anche il prezzo questi verdi che sono bellissimi tutti sul verde 999 poi questi che sono bellissimi 799 sempre chiavi quindi vabbè ci sono ancora giusto due questi qua questi dicono che sono da bambina a me non mi sembra tanto da bambina 499 ai bambini si mettono quelli piccoli sinceramente questi qua super colorati 499 c'è la marca divided in cui io tempo fa molto tempo fa prendevo un bel po' di roba questa costa 599 ed è questa collana qui con la farfalla perché perché visto che ho preso gli orecchini e se non mi sbaglio c'ho anche l'anello per lo meno tutto anche se non è proprio uguale poi come facevo a dire di no a quest'altra collanina da 699 sempre divided H e M a doppio giro con l'orsacchiotto guardate l'orsetto come è stupendo guardate come fa luce una figatone pazzesca che posso abbinare con gli orsetti con gli orecchini degli orsetti della bijou brigitte che poi vi farò vedere sempre della divided ho preso questi due anelli sono della coca cola sono la M e la L vediamo se mi vanno allora non mi piacciono particolarmente però c'ho una cosa della coca cola diciamo che questo con lo smalto giallo sta molto bene e poi c'è quest'altro qua rosa con la cosa della coca cola e con la divided della HM abbiamo finito per il resto al prossimo video ok raga perché c'è anche altra roba di bigiotteria da farvi vedere con questa la prossima ciao ciao